Ultima giornata di esercizi spirituali per Papa Francesco e la Curia Romana, iniziati domenica pomeriggio presso la Casa Divin Maestro ad Ariccia. Nove meditazioni immerse nella preghiera e concluse dall'adorazione eucaristica, guidate da padre Giulio Michelini, francescano, docente presso l'Istituto Teologico di Assisi, che per alcuni brani in particolare si avvasso della collaborazione di una coppia di sposi e di una suora Clarissa. Giorni di silenzio anche telematico per l'account Pontifex, ma da stasera il Pontefice ritorna ad affrontare gli impegni dell'agenda. A cominciare dall'incontro di questo pomeriggio invicariato con i parroci prefetti di Roma e i vescovi ausiliari, in cui, secondo alcune fonti, potrebbe prevedersi una consultazione in vista della scelta del successore del Cardinale Vallini come vicario. Ci sarà poi domenica la visita pastorale alla parrocchia di Santa Maria Maddalena di Canossa, della periferia nord della capitale, una comunità che non vede l'ora di abbracciare il proprio vescovo. Mentre, notizia di oggi, è stata fissata per venerdì 17 marzo alle ore 17 in San Pietro, la celebrazione penitenziale che comprenderà il rito per la riconciliazione dei più penitenti. Nel mezzo, lunedì 13, cadrà il quarto anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio, una ricorrenza che certo Francesco non vorrà ammantata di alcuna enfasi, ma cheppure sarà nei pensieri dei fedeli di tutto il mondo. Grazie a tutti.